il perugino esce furtivamente dal suo celebre dipinto l'adorazione dei mangi custodito nella galleria nazionale dell'umbria perugia per allontanarsi verso l'uscita alla scoperta delle bellezze delle città e dei borghi umbri riparte la campagna di promozione turistica della regione umbria e questa volta sarà il meglio maestro d'italia in persona a promuovere la stagione primaverile con un nuovo spot video a firma di armando testa oneri in tv il film si apre in una delle sale più belle della galleria nazionale dalla quale si allontana il perugino che una volta in strada si proporrà ad una coppia di turisti come in solita guida alla scoperta delle bellezze dell'umbria il frenetico viaggio del trio toccherà i luoghi cari al grande artista da città della pieve al trasimeno da panicale alla cascata delle marmore in un susseguirsi di borghi spettacolari paesaggi mozzafiato e opere magistrali ingredienti che rendono la vacanza in umbria un'esperienza indimenticabile lo spot si chiude con un invito a vivere l'arte con nuove emozioni e lo storico payoff umbria cuore verde d'italia a partire dal mese di maggio il viaggio vedrà altri territori dubbi che faranno da sfondo